Ecco ho impostato una navigazione per casa di Carmine Ma che fai? Ti do il navigatore Ma guarda che la conosco la strada Ma se ci siamo stati mezza volta eppure di sera Ma che c'entra? Ma non vedi che questi mezzi tecnologici ci hanno distrutto la vita? Non siamo più in grado di memorizzare una strada Di interagire con le persone per chiedere un'informazione Guarda, ci hanno reso freddi Hanno distrutto i nostri istinti Chiediamo Mi scusi un'informazione? Sì, sì, sinistra Sembra il diritto Poi a destra A destra, andiamo a destra Sì, sì, adesso sto andando Eh, qui non lo voglio, dai Eh, adesso sto andando Sinistra Sinistra? Eh, a destra Adesso è non mancato, no, vado qua A sinistra, quindi Eccoci qua, qua Noi non dovevamo venire qui Ma io sì Grazie mille, a dire adesso Eh, arrivederci